Passo la parola a Vincenzo Barone che ci parlerà di linguaggi comuni per sistemi complessi, la nuova frontiera di arte e scienza. Grazie. Grazie a tutti, grazie a Toto. Sono ormai abbastanza vecchio da essere difficilmente imbarazzabile, però ci è riuscito, anche perché è un amico, quindi diciamo, come tutti gli amici, tende anche ad essere troppo gentile. Quello di cui cercherò di parlarvi oggi, facendolo più con, spero, con immagini e filmatiche con parole, perché la quantità di informazione contenuta in un'immagine o in un filmato è ovviamente molto maggiore di quella delle parole che lo accompagnano, e di accompagnarvi in un viaggio attraverso lo spazio e il tempo, cercando di dimostrare che le nuove tecnologie di realtà virtuale immersiva possono svolgere un ruolo non di sostituzione in alcun modo della conoscenza o delle competenze, ma di facilitatori delle percezioni che si riescono ad avere. Cerco di essere un attimo più chiaro. Per fare un esempio molto semplice, è un po' maschile, ma insomma, se si gioca a biliardo, oppure se uno sposta un tavolo, in realtà sta integrando delle equazioni del moto, però nessuno si sogna di andare, scrivere, integrare le equazioni per svolgere questa azione. Se la stessa cosa la dovete fare con un elettrone o con una galassia, e non è uguale, siete costretti a un livello di astrazione tale che comporta una interpretazione fisico-matematica, un distacco dall'oggetto e un non uso dei vostri sensi. Questo è un punto estremamente importante, su cui che sarà un po' il leitmotiv di tutto quello che vi racconterò. che è la considerazione, sono due considerazioni in realtà. Una è che è quella che va sotto il nome tecnico di propriocezione, cioè il concepirsi e il vedersi in relazione con il mondo esterno va al di là della mente, va al di là del singolo senso e un'integrazione complessiva legata allo sviluppo, adesso non sono un neuroscienziato, quindi non mi permetto di entrare in questo, però è di più di quello che forniscono i singoli sensi del cervello, ma funziona solo sulle scale spazio-temporali caratteristiche vostre, cioè funzionano sul metro e il centimetro sullo spazio dal secondo all'ora, per intenderci, sul tempo. Però ci sono una serie di fenomeni estremamente interessanti che sono al di fuori di queste scale. Allora, quello che è stato fatto finora è stato quello di cercare di astrarsi e andare a questi altri livelli. Quello che forse oggi si può fare è quello di portare questi oggetti sulla nostra scala spazio-temporale. Con la speranza che questo, con la speranza, io ne sono abbastanza certo, che questo porti a processi mentali o a riflessi condizionati che vanno molto al di là di quello che uno riesce a fare con la pura astrazione. Questo è un punto. Il secondo punto, che forse è ancora abbastanza... Beh, intanto che vi dico queste cose vi faccio vedere dove lavoro, perché un minimo di pubblicità la faccio. Però risulterà chiaro il perché, non è soltanto legato... Stavo dicendo, il secondo punto, che è ancora sottovalutato, è che c'è stata una trasformazione epocale nelle scienze, ma anche nelle scienze umane. Questo è il nostro laboratorio, eccetera. Il motivo per cui ve lo faccio vedere è per vedere, intanto che sono un sacco di persone giovani, che è uno dei temi che mi portano, e secondo per l'integrazione fra persone che hanno varie competenze, ma ci tornerò. Stavo dicendo, mentre una volta la cosa difficile era l'acquisizione dell'informazione, il numero di dati a disposizione era relativamente piccolo, e l'organizzazione dell'informazione avveniva in maniere abbastanza rozze, perché non c'era bisogno di integrare grosse informazioni. Generalizzo, in alcuni casi non è vero, ma in molti casi è vero. Oggi disponiamo di una quantità di informazione enorme, e l'organizzazione dell'informazione diventa un problema fondamentale che va fatto in maniera che non può essere più artigianale. Però c'è un rischio, questo è il problema dei cosiddetti big data, non dico nulla di nuovo, ma c'è un rischio in questo, il rischio profondo che c'è è che l'organizzazione dei dati di per sé costituisca la soluzione al problema. Questo è un rischio che voglio sottolineare molto, perché è una deriva che molto ricerche prendono, in cui la tecnologia che è dietro il problema diventa il centro, mentre il centro del problema che uno deve risolvere la tecnologia è uno strumento per risolverlo. E questo è una cosa che va insegnata, va insegnata ai giovani, deve diventare una cosa molto importante e per le persone della mia generazione non è ovvio, perché questo non era un problema. Allora, quello che vi dicevo prima, dopo questa introduzione un po' confusa ma su cui spero di dare qualche elemento in più nel corso dei prossimi minuti, è quello di andare attraverso scale differenti di spazi e tempo. Questa è una cosa che in termini scientifici è abbastanza nota, il problema della multiscala e al centro della ricerca eccetera, ma io lo voglio presentare in una maniera diversa e che invece di essere noi che ci sforziamo di attraversare le scale è la tecnologia che ce le fa attraversare. Vi faccio un esempio che forse i più anziani tra voi e i miei coetanei hanno presente quando sono nati i colcolatori parlo degli anni 50 era l'uomo che doveva adeguarsi al linguaggio della macchina si programmava nel cosiddetto linguaggio macchina che era una cosa da incubo dopodiché sono nati linguaggi evoluti Fortran eccetera eccetera siamo passati dalle schede perforate ai terminali al mouse e così via perché lo dico? Perché con l'aumentare della tecnologia è la macchina che si adegua all'uomo e non l'uomo che si adegua alla macchina questo stesso tipo di ragionamento è quello che io vi vorrei proporre oggi in un paio di casi esemplari alcuni presi dai beni culturali altri presi dalla chimica vale in termini molto più generali sulle applicazioni che noi abbiamo fatto ci sono aspetti di cosmologia quindi di cose ancora più grandi sulla scala spaziale abbiamo fatto la riproduzione di esperimenti LHC quindi scale molto veloci e molto piccole però oggi mi concederò soltanto su due cose uno è l'attraversamento delle scale temporali con riferimento a problemi di beni culturali archeologie e quant'altro e l'altro è quello delle scale spaziali con riferimento alla chimica così diciamo almeno racconto qualcosa che sarebbe effettivamente il mio mestiere questa cosa ha a che fare con un tema più generale che era evocato anche nel titolo della conferenza che è quello di gettare ponti che è l'altro tema secondo me estremamente importante della ricerca della società contemporanea non voglio mettermi a fare discorsi vagamente politici ma diciamo lo slogan ponti invece di muri funziona anche in scienza come funziona in molti altri settori ed è una cosa complicata che va insegnata e che va perseguita ok da dove parte questa considerazione il modo storicamente utilizzato dalle scienze dure per risolvere un problema è se devo risolvere un problema devo andare a fare l'esperimento questo è il film interstellar perché sono un appassionato di fantascienza cioè se io devo studiare un pianeta lontano qual è il modo tradizionale costruisco un'astronave e ci vado questi sono i due pianeti di interstellar ma diciamo è questo il concetto devo toccare toccare in senso lato evidentemente non in senso materiale ma ci devo andare qual è l'alternativa forte non me ne importa niente lavoro solo sul virtuale la relazione con la realtà non mi importa simulo tutto e non c'ho più niente a che fare questo è tratto da Matrix che è stata secondo me una rivoluzione diciamo nel modo di porsi rispetto alle cose è possibile un'integrazione fra questi due aspetti e questo è il tema reale di quello che vi dirò dopo l'integrazione tra reale e virtuale per costruire qualche cosa di più complesso in cui gli elementi caratterizzanti dei due approcci possono contribuire a formare un quadro più interessante ed integrato di problemi complessi che ci troviamo ad affrontare questo è il riassunto della cosa ok ve lo faccio vedere in una maniera un po' evocativa questo è un rendering di una cosa che stiamo costruendo a Pisa perché poi diciamo uno fa riferimento alla propria esperienza questo è un banale laboratorio diciamo informatico computazionale che sembra una cosa del tutto normale poi uno si affaccia questi sono i matronei di una chiesa è reale la cosa e vede che questo si integra oppure si affaccia direi che è più interessante su il bello cioè il bello e la scienza si possono integrare dove che compare improvvisamente un cubo un basso cubo di cemento e questo è un un cave quindi una sala di realtà virtuale tutto questo è vero non me lo sto inventando in questo momento i vari pezzi ce li abbiamo non abbiamo ancora realizzato questa cosa perché in una chiesa la chiesa di San Silvestro di Pisa diciamo ma ci stiamo lavorando perché ve la faccio vedere perché è il tentativo se volete il paradigma di quello che uno cerca di fare adesso vediamola un attimo da un altro punto di vista la chimica tra le tante cose negative accezioni negative che ha da un punto di vista culturale è la prima scienza in cui la forma e quindi la visualizzazione sono stati centrali per definire fenomeni questo in fisica è molto meno vero molto più recente in chimica è da sempre perché la forma di una molecola è quello che ne determina entro certi limiti la funzione cioè non ne potete fare a meno della forma perché altrimenti non avete una reazione chimica per esempio un enzima non funziona perché non si riesce a infilare allora c'è qualche cosa dentro la forma che è importante anche per le scienze dopodiché è ovvio che anche la fisica ha una serie di aspetti di questo tipo la biologia non ne parliamo neanche ma lo segnalo perché la chimica dalla sua origine è una scienza delle forme i modellini molecolari le formule chimiche eccetera la doppia elica del DNA ha richiesto a Watson e Crick la costruzione di un modellino alto non so quanti metri con fili di ferro e oggetti che sembrassero le basi del DNA altrimenti non si vede come si forma una doppia elica se non si forma una doppia elica non potete avere la replicazione eccetera eccetera senza entrare nel merito preciso della cosa senza forma non avete il risultato e quindi il passo successivo della visualizzazione scientifica è la realtà virtuale in cui passate da dei modellini materiali fatti da palline da pezzi di ferro a quello che volete a una cosa che sono delle rappresentazioni in realtà virtuale che fate in queste cose che si chiamano cave che sono delle stanze con dei produttori 3D adesso poi ne vedrete varie ce ne abbiamo uno ma la vera rivoluzione non è questa è questa che vedete adesso i caschetti di realtà virtuale che sono appena usciti sono degli oggetti che costano 400 euro rispetto al costo di un cave che sarà 200.000 euro significa che un caschetto lo può comprare chiunque dov'è il problema e state vedendo una ragazza del gruppo che vedete quello che vede lei su cui adesso farò un commento tra un attimo ancora una volta e questa è una cosa che è successa molte volte nella storia della scienza e della tecnologia l'oggetto il costo dell'oggetto materiale è assolutamente trascurabile rispetto al costo del know-how oppure della creazione di software non esiste software standard ancora per questi oggetti e tutta la differenza la fa il software fino a questi hanno 3, 4, 5 anni fino a quel momento il costo dell'hardware era confrontabile al costo dello sviluppo adesso ovviamente si è rivoluzionato anche questo voglio fare un commento su questa cosa perché non è evidente allora intanto è molto difficile far vedere queste cose con una tecnologia 2D sorpassata non potevo portarmi 200 caschetti per farvela sperimentare qua siete invitati tutti a Pisa per provarlo la prossima volta se scendono ancora un po' di prezzo ne avremo abbastanza ve lo faccio provare in sede ma al di là di questo che è poco se volete è abbastanza poco rilevante non sono dei filmini cioè voi non state vedendo un film 3D precostituito in cui voi non interagite in questi oggetti voi interagite con l'oggetto esterno adesso lo vedrete in maniera un po' più evidente ma fa tutta la differenza del mondo voi dovete costruire una rappresentazione dell'oggetto che state studiando tale che reagisca alla vostra interazione capite bene che c'è una differenza enorme e incidentalmente c'è una potenza di calcolo dietro che non vedete che è il vero costo di questa operazione perché dovete fare in modo tale ripeto che l'oggetto voi vi spostate e l'oggetto giri voi lo toccate e l'oggetto reagisce al vostro tocco allora quello che abbiamo sviluppato finora è sostanzialmente vista e udito l'olfatto diciamo è abbastanza facile non c'è un grosso problema il problema è il tatto perché noi vorremmo arrivare ad avere degli oggetti che sostanzialmente toccate adesso i guanti aptici e altre strutture di questo tipo esistono ma non sono ancora abbastanza veloci reattivi e standard da poter essere utilizzati quindi la nuova frontiera dal nostro punto di vista è il tatto perché vi dico questa cosa adesso la dico da chimico a me piacerebbe molto travestirmi da farmaco e andare a interagire con una proteina la quale mi respinge se non mi sto infilando al posto giusto e invece mi ci fa infilare se sto nel posto giusto cioè come una chiave nella serratura è molto semplice però la chiave nella serratura la capiamo e funziona il farmaco sul sul substrato non lo capiamo dobbiamo andarcelo a studiare e non è la stessa cosa ancora una volta anche se gli strumenti di calcolo sono molto sofisticati fare delle traiettorie di quella che si chiama dinamica molecolare che sono integrazioni all'equazione del moto nel caso molecolare e vedere risultati oppure avere un oggetto in mano che rappresenta il farmaco e cercare di metterlo dove dovrebbe andare avendo una reazione anche al tatto con una forza allora questo è oggi fattibile potreste dirmi non c'è niente di scienza in più è probabilmente vero ma sono profondamente convinto che anche da un punto di vista economico delle industrie farmaceutiche il risparmio è talmente tale anche di più di quello delle simulazioni che si fanno oggi che c'è anche un riscontro economico non è che non è quello che ci spinge perché come diceva il professor Coluccia prima noi facciamo scienza di base poi qualcosa anche di trasferimento tecnologico ma siamo un gruppo o una realtà tutta la scuola molto piccola e che si prefigge di pensare il futuro lo dico in modo un po' evocativo mi scuserete di proporre modelli che saranno utilizzabili fra dieci anni cinque anni di pensare in questi termini ok questo ve lo risparmio perché non è molto rilevante questo è invece interessante perché aggiunge qualche cosa questo è il nostro cave cioè una persona che si muove dentro queste cose di realtà virtuale questo però è realtà aumentata che cosa vuol dire realtà aumentata vuol dire che assieme alla percezione dell'oggetto che state visitando o con cui state interagendo potete accedere contemporaneamente a una serie di dati addizionali cioè avete insieme il movimento il tocco o quello che volete e il dato quantitativo che vi viene elaborato contemporaneamente così potete avere accesso alle due cose insieme in tempo reale ancora una volta questo dovrebbe permettervi ma in alcuni casi lo ha già cominciato a permettere di fare delle proposte di meccanismi più complessi di interazione di tipo che non sono evidenti se non li vedete in questa maniera e quant'altro questo è giusto per fare vedere tutti i tipi di questo è un cervello tra l'altro il cervello che state vedendo ancora una volta questi non sono filmino immaginazione è il risultato di un attack quindi diciamo noi trasferiamo il dato direttamente da un centro grosso che c'è a Pisa alla nostra banca dati viene elaborato e ve lo potete interagire in tempo reale cioè sono tutte le basi di tutto quello che vedrete anche nel seguito sono tutte elaborazioni scientifiche non sono film di fantascienza ok vi dicevo che vi farò soltanto due esempi due grandi esempi uno è quello dei beni culturali virtuali e questo lo utilizzerò per discutere il superamento della barriera del tempo che sarà con un riferimento essenzialmente all'archeologia poi parleremo un attimo di chimica ok il tentativo è quello di introdurre innovazione e tecnologia per incrementare la conoscenza allora questo è un campo scivoloso su cui voglio dirle due parole non c'è in noi nessuna pretesa di sostituire la competenza di archeologi storici dell'arte e quant'altro tra l'altro il laboratorio il gruppo di lavoro è integrato ci sono contemporaneamente informatici chimici fisici informatici umanistici due storici dell'arte quindi è un tema molto integrato ma al di là di questo l'idea è di ricostruire il modello tramite le conoscenze adesso di archeologi o di storici dell'arte trasferirlo in realtà virtuale e farlo usufruire da un lato ai visitatori turisti e quant'altro e dall'altro lato agli specialisti in maniera tale da mettere insieme perché poi tanto se i particolari ci sono tutti possono essere usufruiti a diverso livello sia l'aspetto conoscenza visita museo e sia l'aspetto ricerca scientifica ancora una volta più che le parole funzionano le immagini vi risparmio questa cosa e vengo a due tre esempi che vi farò vedere il primo è quello della ricostruzione virtuale della Gorà di Segesta la Gorà di Segesta è una cosa su cui gli archeologi della scuola lavorano da anni in collaborazione con la sovraintendenza ed è l'antica Gorà di Segesta è stata esplorata spazialmente e temporalmente e costruito un modello 3D tra l'altro questo è un esempio siccome i dati sono di qualche anno fa di uno dei primissimi in uso dei droni per ricostruzioni di siti archeologici che non abbiamo fatto noi hanno fatto gli archeologi della scuola una volta fatto il modello viene tradotto e lo visitate e questo è il risultato della cosa ancora una volta questa è la ricostruzione di com'era la Gorà di Segesta all'epoca in cui è stata costruita e voi vi muovete dentro cioè voglio dire reagisce se lo vedete al vostro movimento tenete conto che tutto quello di cui avete bisogno e questo è il passaggio nel tempo lo vedete c'è la ricostruzione contemporanea di com'era e com'è questo è com'è adesso e ritornate indietro a com'era all'epoca tutto quello di cui avete bisogno è un paio di occhialini è un geolocalizzatore che però è quella specie di antennina che ci sono sugli occhialini noi siamo partiti da cavi fili e quant'altro la situazione attuale è questa e riuscite come vi dicevo a muovervi contemporaneamente in maniera naturale sia nello spazio che nel tempo ancora un'analisi virtuale dei dati di scavo questo è un progetto che è stato fatto insieme a un certo numero di archeologi in cui abbiamo cercato di definire con dei gesti che loro considerassero naturali la possibilità di riconoscere vari livelli di uno scavo vedete la persona si muove osserva e a secondo del movimento delle mani lo vedete rappresentato sulla destra riesce ad andare a diversi livelli di scavo questo il risultato sembra relativamente semplice e relativamente naturale ancora una volta il lavoro che c'è dietro dal punto di vista di ricerca scientifica è un lavoro di anni il lavoro che c'è dietro dal punto di vista di costruzione dei modelli di costruzione di questa cosa di realtà virtuale è un lavoro di mesi e dietro questo oggetto ci sono allo stato attuale 4 workstation con un certo numero di gpu proiettori 3d e un centro di calcolo perché questo significa elaborare l'immagine in tempo reale mentre voi vi ci muovete dentro che è una cosa dato il numero di la quantità di informazione che dovete vedere è abbastanza rilevante questo è ancora un altro esempio è caulonia anche questo deriva da dati ricavati dai nostri archeologi questo è interessante perché è la prima realizzazione che abbiamo fatto è molto più recente delle altre fatta nel caschetto cioè abbiamo è stato completamente eliminato lo vedete da Nicola il ragazzo che si sta muovendo questo è quello che lui vede non si muove più dentro al cave quindi alla cosa 3d si muove tenendo semplicemente un caschetto di realtà virtuale in testa e questo è quello che lui vede muovendosi come vi dicevo prima questo è ancora un caso di realtà aumentata perché vedete che vicino alle vari monumenti avete delle indicazioni testuali che vi dicono a che cosa corrispondono e poi voi se andate a toccarlo vedete potete andare a ricostruire e a vedere di che cosa si tratta come era quando è stato realizzato e quant'altro vedete in basso quello che lui sta facendo con dei joysticks sostanzialmente in questo caso cioè avete un caschetto due joysticks e diciamo il risultato netto è lo stesso è indistinguibile ormai adesso vi dico una cosa anche su questo da quello che si otteneva muovendosi dentro al cave 3d che invece era una stanza 3x3 con 5 proiettori tridimensionali e quant'altro questa cosa è recente intanto perché il collegamento del caschetto ai computer è abbastanza significativo perché vedete che la quantità di informazione che dovete maneggiare non è così limitata e quindi i computer sono abbastanza potenti e anche gli storage devono essere abbastanza potenti ma il secondo punto è che i primi caschetti quelli della generazione precedente davano un senso di vertigine perché deve essere molto ben sincronizzato vista e udito per non dare sensazione di straniamento soprattutto se voi li potete utilizzare per andare a fare indagini non per fare i turisti e vedere quello che sta succedendo ripeto ancora una volta c'è una grossa differenza tra questo e le cose che si cominciano a vedere in giro di visite virtuali con i caschetti perché le visite che vedete in giro sono precaricate e precostituite quindi avete un filmino 3d che voi vedete col caschetto questo no questo voi vi muovete e l'oggetto reagisce al vostro movimento al vostro tocco è proprio un altro ordine di grandezza la cosa ok per darvi qualche altro esempio queste aghiatriadia altro ricostruzione virtuale anche queste col caschetto queste sono le più nuove che abbiamo fatto e vedete che sono tutte realizzate ormai sui caschetti di realtà virtuale tenete conto che tentiamo di realizzare software che va sotto il nome di multiplatform cioè nel senso che lo stesso software sia usufruibile su strumenti diversi che vanno dai pc ai caschetti ai cave e quant'altro questo complica un po' l'ingegnerizzazione del prodotto però diciamo è talmente vantaggioso dal punto di vista di trasferibilità che ci lavoriamo molto non è limitato all'archeologia questo è il museo di San Matteo che è uno dei musei un museo di Pisa in cui voi questa è un'applicazione di quelle più ovvie il museo virtuale in cui voi riuscite a mettere all'interno dello stesso museo virtuale che vi costruite opere che provengono in questo caso sono tutte del San Matteo ma in linea di principio potrebbero provenire da diversi musei e quindi voi potete utilizzarli per andarvi a vedere diverse opere dello stesso artista in contemporanea messo insieme questo è il passaggio dal virtuale al reale la statuina è stampata con una stampante 3D che è collegata con gli altri oggetti che vedevate prima e che poi utilizziamo per fare esperimenti di restauro virtuale perché una volta che l'avete passata alla stampante 3D la potete colorare in diversa maniera gli storici dell'arte possono fare varie prove di colore e composizione e quant'altro senza toccare senza distruggere l'oggetto perché l'oggetto di partenza viene scansionato una volta e poi non viene assolutamente toccato più arte contemporanea caverna dell'antimateria questa è una installazione molto grande che è difficile da ristallare perché richiede spazio e una serie di altri problemi è stata installata soltanto due volte a un certo punto ci è sembrato in collaborazione ancora una volta con gli storici dell'arte di ricostruirla in 3D in maniera tale che senza reinstallarla sia possibile visitarla ogni volta qua vedete è interessante anche da un altro punto di vista perché questo è stato fatto qualche anno fa e vedete che la tecnologia si sta evolvendo in questo caso c'è ancora un filo che collega la persona che si muove al rilevatore di posizione al tracker e in più la persona ha anche un tablet in mano invece di muoversi semplicemente con le mani in 3-4 anni si è passato da questo alle cose che vi ho fatto vedere prima perché non sono in ordine cronologico in cui ci sono soltanto gli occhialini non c'è nessun cavo nessun tablet né niente e in cui oltretutto invece di muoversi all'interno di questa cosa uno può utilizzare i caschetti il riassunto lo risparmio perché su questo diciamo ci potrebbe essere una discussione nel senso della importanza della tecnologia nei beni culturali nuove strategie di studio ma soprattutto il punto che io non mi stanco mai di ripetere è l'importanza delle competenze trasversali ci vuole grossa apertura da tutte e due i lati in questo caso dal lato delle scienze dure e degli humanities per capire che l'interazione paritaria può portare dei risultati questa è una cosa che e anche qui non ci spendo molte parole ma la dico in maniera un po' tranchant per le persone della mia generazione è complicata perché le persone vanno educate da piccole ad accettare questo punto di vista e ad affrontare problemi da molti punti di vista questo lo dico come critica anche agli scienziati duri nel senso che l'idea del problem solving che è il grande la grande parola chiave che viene utilizzata nelle scienze dure di educare le persone al problem solving dal mio punto di vista è ormai limitato se per problem solving non si intende utilizzare anche approcci che non sono soltanto quantitativi ma che sono mutuati da altri ambiti culturali e contemporaneamente se mi permettete tanto sono vecchi abbastanza da potermelo permettere dall'altro lato quindi delle scienze umane questo anelito alla scientificizzazione o come si dice come se la parola scienza applicata alla storia alla filosofia o alle arte fosse di per sé sinonimo di qualità secondo me pone dei limiti perché il problema è di tipo diverso ed è quello di una maggiore interazione però su questo potrei parlare molto a lungo e ve lo risparmio perché io sono profondamente convinto che vada costruito un nuovo modello di approccio ai problemi che ritorni dopo la iper specializzazione ritorni a un discorso più vicino a quello che era quello dell'umanesimo rivisitato e che questo potrebbe essere una delle grandi scommesse di questo paese ma adesso sto partendo per la tangente vi risparmio la chimica dei beni culturali e negli ultimi dieci minuti torno a casa e parlo un po' di chimica teorico computazionale raccontandovi sulla base della chimica computazionale l'altro aspetto che è quello del superamento delle scale spaziali piuttosto di quelle temporali tengo a precisare che le due cose non sono separate perché normalmente una cosa piccola è veloce e una cosa grande è lenta quindi non è così separabile però diciamo per semplificazione in questo caso cerco di tenerle separate e in più ci sono cose molto più piccole degli atomi delle molecole e cose anche molto più grandi tipo galassie o quant'altro ma insomma non è che posso fare una chiacchiera su tutto l'universo anche se già mi sto allargando molto per i fisici una cosa la voglio dire per i fisici è scontato che qualunque esperimento abbia una base teorica o fisico-matematica cioè c'è una distinzione tra fisica teorica e fisica sperimentale ma anche un fisico sperimentale ha una forte componente teorica di approccio fisico-matematico la chimica è diversa la storia della chimica è basata su un linguaggio diverso che non è soltanto quello fisico-matematico è il linguaggio della chimica e riconciliare il linguaggio della chimica con la meccanica quantistica cioè il fatto che le molecole e la teoria delle coppie di elettroni avesse qualcosa a che fare con l'equazione di Schrödinger ha richiesto una quantità di anni molto elevata perché i modelli generali non funzionano bisognava andare al quantitativo per riprodurre queste cose allora l'idea che la chimica teorica e il computazionale servano a qualcosa questo lo dico sulla mia storia personale è un'idea recente in chimica non è assolutamente scontata e la riconciliazione di cui parlava il professor Coluccia prima tra sperimentali e teorici è avvenuta soltanto a partire dal momento in cui le simulazioni che facevano i teorici che poi sono diventati dei computazionali hanno avuto un livello di realismo e quindi di riproduzione del dato sperimentale vagamente ragionevole questa cosa è successa non più di 20 anni fa ed è stata in chimica una rivoluzione perché abbiamo ricominciato a parlarci senza che gli sperimentali pensassero che noi facevamo cose che non avevano nessuna rilevanza e noi pensassimo estremizzo un po' ma è giusto per cogliere il punto che gli sperimentali erano dei pasticcioni che non capivano quello che stavano facendo oggi questo per fortuna non è più vero ma anche qui è una rivoluzione perché sono le nuove generazioni che sono formate in questa maniera la mia generazione non è stata formata in questo modo e infatti la chimica teorica e computazionale è una disciplina molto recente è più o meno coeva con lo sviluppo dei computer la fisica teorica è una disciplina che sostanzialmente è sempre esistita insieme alla fisica sperimentale qua ci sono i vari passi adesso ve li risparmio insomma i vari computer e quant'altro questa è la famosa legge di Moore da cui non ho potuto esimermi che mostra la crescita della potenza di calcolo che è sostanzialmente lineare nel senso che ogni anno si raddoppiava la potenza dei processori e così via questa è la invece la trasparenza chiave negli anni 60 e 70 ma anche fino agli anni 80 che quando mi sono formato io i sistemi che erano rappresentabili e studiabili a livello di chimica computazionale erano l'acqua il dimero dell'acqua e il benzene insomma che da un punto di vista sperimentale sì sono tanto carini ma non è che siano così significativi da un punto di vista applicativo tecnologico e quant'altro e oggi la situazione è totalmente diversa noi tramite vari metodi in varie circostanze adesso non voglio parlare degli aspetti tecnici ma simuliamo materiali sistemi biologici sistemi in condizioni di temperatura e pressione estreme origine della vita intendendo fenomeni di cinetica e reattività abbastanza complessi la grafica molecolare che è l'altro aspetto adesso poi la smetto e vi faccio vedere un po' di rappresentazioni viene da immagini molto primitive a rappresentazioni che cominciano ad essere realistiche anche se queste per quanto ci sia scritto moderno visualizzatore sono sempre rappresentazioni 2D notate che in chimica e anche in chimica organica la distribuzione degli elettroni intorno agli atomi di una molecola è stata una cosa estremamente importante perché la teoria qualitativa che va sotto il nome di teoria degli orbitali di frontiera ma che vuol dire sostanzialmente che è la distribuzione elettronica o una parte della distribuzione elettronica che determina la reattività in termini qualitativi e non quantitativi accompagnato dalla ricerca chimica dagli anni 60 e anche dal punto di vista come dicevo prima della chimica organica che è una chimica molto applicata va bene vi salto tutta questa parte per dire come avevo detto prima che la chimica è una disciplina visuale in questa trasparenza c'è scritto che il calcolo è un mezzo per la comprensione è vero ma sta diventando una cosa diversa era vero che la produzione di numeri e di dati è stato importante per la comprensione e oggi è la produzione di immagini e ve lo faccio direttamente vedere il tipo di cose che riusciamo a fare questo è il nostro editor molecolare che si chiama Caffeine diciamo la sua caratteristica fondamentale al di là di avere appunto di lavorare in realtà aumentata sempre perché quello che vedete a sinistra è la rappresentazione quella che vedete a destra è una serie di dati numerici finché era così è normale però il problema è che Caffeine lavora in realtà virtuale 3D e quindi ritorniamo a quello che vi dicevo prima in cui le persone entrano nella molecola questi sono due ricercati sono due chimici in questo caso i quali stanno esaminando dentro al cave la variazione della densità elettronica di adesso lo dico in termini un attimo tecnici dei carbonili come determina la frequenza di vibrazione dei carbonili in funzione dei sostituenti ma al di là del tecnicismo siamo ritornati a quello che dicevamo prima a fianco a questo la cosa su cui stiamo lavorando di più negli ultimi cinque anni è un cosiddetto spettrometro virtuale che significa la cosa seguente da un punto di vista sperimentale la spettroscopia che significa l'analisi quantitativa dell'interazione tra radiazione e materia sostanzialmente che i chimici chiamano spettroscopia to cure indipendentemente dal campo elettromagnetico che stanno utilizzando è uno dei mezzi più potenti per analizzare struttura e dinamica dei sistemi insisto sulla parola dinamica perché non abbiamo mai utilizzato abbastanza noi chimici quello che succede oggi è che per studiare un sistema voi utilizzate più spettrometri allo stesso tempo vuol dire andate a esaminare lunghezze d'onda diverse o zone del campo elettromagnetico diverse che vi danno informazioni diverse sulla struttura e sulla dinamica della molecola su diversi moti o quello che è contemporaneamente per farvi un quadro generale quello che noi pensiamo di riuscire a fare è costruire la stessa cosa in maniera virtuale in cui l'equivalente del cambiamento di lunghezza d'onda venga fatto esattamente girando un bottone come viene fatto sperimentalmente un po' più complicato ma diciamo l'idea è che girando un bottone una manopola virtuale o che passate da uno settore all'altro del campo elettromagnetico e producete cosa? non numeri ma direttamente spettri cioè la rappresentazione complessiva della risposta della vostra sostanza al campo elettromagnetico che ci state mandando questo è un po' tecnico ma non saprei come altro raccontarlo questo è come funziona l'oggetto e questo diciamo è un filmato che vi fa vedere alcune delle caratteristiche allora questo parte dal disegnare una molecola in maniera abbastanza automatica una volta che ve la siete scelta andate a registrare i vari tipi di spettri sono vibrazionali elettronici quant'altro poi voglio dire in varia maniera 2D 3D andate ad analizzare tutte le cose che determinano il risultato finale sovrapponete diversi sistemi in condizioni diverse analizzate le varie componenti fate il confronto tra dato sperimentale e calcolato costruite varie superfici di potenziale modi di vibrazione tutto quello che volete orbitali molecolari che significa densità elettronica scusate ma qua ho difficoltà a non dirlo in termini un po' più specifici manipolate i vari tipi di spettri e così via le singole cose che compongono questo oggetto sono probabilmente presenti in molti software un'integrazione così spinta non credo che esista in altre circostanze questo è quello che vi dicevo prima a cui tengo dietro tutto questo c'è un centro di calcolo cioè si è stati costretti a costruirci il nostro centro di calcolo e quindi nel gruppo oltre a esserci appunto chimici e quant'altro ci sono 4-5 informatici system manager e così via questo però è oggi è quello che vi dicevo prima probabilmente fra 5 anni tutto questo lo potete fare con un workstation e quindi diciamo il valore aggiunto che è quello di averlo pensato modellizzato e scritto il software potrà essere utilizzato senza avere bisogno di apparati dietro così importanti questa invece è la diapositiva più importante di tutte perché è il gruppo di persone che hanno della scuola che hanno collaborato a tutte le cose che vi ho mostrato e a molte altre che non sono stato in grado di mostrarvi e la cosa per me centrale è che a parte me di cui vabbè l'ha detto il professor Coluccia prima l'età la persona più anziana che è Chiara Cappelli ha 45 anni e tutti quanti gli altri sono under 40 e in più ma perché se no non riuscirebbero a lavorare tra di loro e in più tra tutte queste persone ci sono come dicevo prima chimici, fisici, matematici informatici umanistici un paio di storici dell'arte e quant'altro che riescono a parlare tra di loro e questa è una delle cose più miracolose ma oltre a ciò siamo al centro anche come si diceva prima di una rete di collaborazioni abbastanza ampia e articolata che comprende sia università italiane e centri di ricerca italiani che stranieri che ci permettono da un lato di avere l'informazione sperimentale che è alla base di tutto quello che facciamo da un altro lato di avere accesso a metodi e a strumenti che noi da soli non sviluppiamo e con questo concludo questa carrellata sicuramente confusa ma ho preferito cercare di darvi un'idea di cosa succede piuttosto che approfondire un singolo tema e grazie a voi grazie 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 Vincenzo vorrei passare subito grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti